La nostra storia parte all'incirca nel 2000, quando Steve Jobs dichiarò internamente che voleva far diventare Apple l'azienda dominante in tutti i settori in cui le persone spendono del tempo. Quest'idea però è stata dovuta essere messa un attimo in disparte, in quanto proprio in quel decennio Apple ha lanciato uno dei suoi prodotti migliori, e cioè l'iPhone, che ha reso grande l'azienda e se vogliamo ha dato anche un grande contributo all'umanità. Da lì tutte le sue evoluzioni, fino a quando, nel 2017, Apple ha ricominciato a guardarsi intorno su altri settori che poteva andare a attaccare e a iniziare a dominare. Ed ecco che proprio in un'intervista del 2017, Tim Cook, successore di Steve Jobs, ha definito tre tecnologie che in quel momento stava monitorando in maniera abbastanza da vicino per quanto riguarda i futuri sviluppi di Apple. In particolar modo era interessato sui veicoli elettrici, sul car sharing e sulla guida autonoma. Vediamo quindi che c'è un intento abbastanza prepotente nel entrare nel mondo del settore automobilistico da un valore di più di 2 trilioni di dollari. In realtà questa intenzione è covata all'interno dell'azienda già prima delle dichiarazioni del 2017 che abbiamo appena visto, all'incirca intorno al 2014. L'idea è molto chiara, e cioè quella di rivoluzionare completamente il settore dell'automobile, proprio come hanno fatto negli anni 90 e 2000 nel settore della tecnologia e ad esempio nel settore della telefonia, cioè quella di sbaragliare colossi al tempo come ad esempio Nokia o Motorola. Ecco, ad esempio, giusto per capire le potenze in gioco, queste sono le capitalizzazioni di Apple e delle industrie più importanti nel settore automobilistico. Come potete vedere il paragone è imbarazzante. E quindi magari si pensò che questa forza finanziaria, tecnologica, ma anche di customer base che aveva Apple potesse sbaragliare tutta la concorrenza nell'ambito dell'industria automobilistica. Ma praticamente poi come entrare nel mercato? Fare qualcosa da zero, completamente nuova, oppure acquistare qualcuno che è già nel settore e quindi aiutarlo a crescere? Ecco, Apple nel primo momento pensò che la seconda idea fosse la migliore, e cioè acquistare qualcuno. Siamo nel 2015 e iniziarono dei contatti tra Apple e Tesla. Allora c'era già Masca all'interno di Tesla. L'idea di acquistare Tesla andò in fumo e quindi dovettero ripiegare sulla prima idea di entrare nel mercato, e cioè quella di creare qualcosa da zero. Per questo iniziarono ad assumere numerosi ingegneri dalle aziende automobilistiche più importanti, tra cui Porsche, Lamborghini o Audi, ad esempio. Marchi importanti con una certa esperienza e tecnologia abbastanza avanzati, quindi si reputava che fossero le persone giuste. L'obiettivo, vi ricordo siamo nel 2015, a questo punto della storia, era di lanciare un'automobile entro il 2020 e quindi iniziano a lavorare. Nei gruppi di lavoro di Apple dedicati all'automobile c'era veramente grande fermento, grande voglia di rivoluzionare un intero settore. Si pensava di voler costruire letteralmente l'auto del futuro, quindi entrare con qualcosa di completamente stravolgente, come un po' hanno fatto anche con gli altri settori su cui effettivamente hanno vinto. E siamo intorno al 2016-2017. Per farvi qualche esempio, si voleva creare un'auto con tutti i comandi touch, proprio come ad esempio un iPhone, oppure con un design particolare alla Apple che richiamasse tutte quelle linee pulite e snelle o che comunque anche richiamavano un certo retro. Infatti per un certo periodo si sono ispirati addirittura anche al van Volkswagen che è diventato molto di moda negli anni 70 con la cultura hippie. Come anche un'altra idea folle, cioè quella di creare un salotto all'interno dell'abitacolo della macchina, perché l'obiettivo era anche quello di creare un'auto con guida autonoma livello 5, quindi senza avere il bisogno di un guidatore con volante e pedali che conducesse l'auto. C'è però un problema. Tutto questo fermento, queste grandi idee che si susseguivano per poter rivoluzionare l'intero settore automobilistico non hanno portato a granché. Molte volte ci sono stati degli scontri interni per quale design potesse essere quello più futuristico. Oppure ancora sulla guida autonoma livello 5 si trattava di una tecnologia ancora prematura per quel tempo e tutt'oggi è prematura. Stiamo parlando, vi ripeto, del 2017-2018 e quindi ad esempio i test per poter proseguire con questi livelli di guida autonoma così alti non sono andati come sperato. E quindi pian piano inizia a vacillare, a scricchiolare quest'idea molto forte di portare sul mercato entro il 2020 un'auto che potesse completamente rivoluzionare il settore. L'auto del futuro di Apple stava svanendo. Arriviamo quindi al 2019. Manca solo un anno o poco più per il lancio almeno rispetto alla tabella di marcia che si erano prefissati qualche anno fa e ancora Apple non ha un'auto da produrre. Nel frattempo però il mondo cambia. Vi ho già parlato dei tre driver che Tim Cook reputava molto interessanti nel 2017. Veicoli elettrici, car sharing e guida autonoma. Beh, per quanto riguarda il car sharing Uber, una nota azienda che fa questo servizio di car sharing in tutto il mondo tranne in Italia perché noi in Italia la concorrenza non ci piace ecco che va in pubblico, cioè si quota in borsa e diciamo che quotandosi in borsa si vede che quel business non è così remunerativo e interessante come ci si aspettava. Per quanto riguarda invece l'auto elettrica Tesla esplode in quegli anni fa il botto e la sua valutazione di mercato diventa 20 volte più grande rispetto al momento in cui Apple e Tesla intorno al 2015 effettuarono i primi colloqui di acquisizione o collaborazione. Quindi è stata persa una grande opportunità mentre sul campo della guida autonoma, come vi ho detto il progetto faceva acqua da tutte le parti la tecnologia non riusciva a entrare nel mercato in modo efficace. C'è anche un altro problema non so se lo sapete ma il CFO cioè la persona che si occupa di gestire le finanze di Apple è un italiano ecco facendo qualche ricerca si scopre in realtà che il settore automobilistico non è particolarmente interessante rispetto agli standard su cui è abituata Apple infatti i margini di profitto nel settore automobilistico sono estremamente più bassi rispetto a quelli che ha abitualmente Apple nel vendere cellulari, computer e tutto il resto della tecnologia e quindi fare tutto questo enorme investimento su questo nuovo progetto in realtà forse sarebbe meglio continuare a produrre telefoni a guadagnare molto di più su quel settore rispetto a concentrarsi su un settore estremamente complesso lo stanno vivendo sulla loro pelle e con margini di profitto estremamente bassi. c'è un punto in comune quindi in tutta questa storia e cioè una grande indecisione e una mancanza di leadership nel far proseguire questo progetto in maniera convincente e con successo ci sono tante idee come vi ho raccontato che vengono proposte ma poi realmente non vanno a importo perché magari sono infattibili o perché magari all'inizio di quell'idea si è scoperto che non era un gran che addirittura volevano ampliare i loro uffici aprendo un campus parallelo dedicato esclusivamente alla progettazione di questa auto auto però che ancora era assolutamente in stato embrionale ma come descrivere in maniera più efficace questo fallimento progettuale di Apple? beh con una cifra pensate che sono stati spesi all'incirca un miliardo di dollari all'anno per poter progettare questa auto e ancora la linea di produzione è ferma e la tempistica del 2020 è andata in fumo a quel punto è richiesto un po' di pragmatismo bisogna un po' ritrattare l'idea dell'auto del futuro lo standard di guida autonoma diminuisce dal livello 5 al livello 2 e tante altre piccole cose che sarebbero dovute essere utili per la costruzione di questa auto fantastica in realtà vanno meno e diventa sempre più un'auto come tutte le altre l'appeal sul progetto pian piano svanisce gli ingegneri più importanti o alcuni direttori se ne vanno via o vengono spostati all'interno dell'azienda su altri progetti più importanti pian piano l'auto del futuro diventa sempre più irreale per quanto riguarda Apple e così arriviamo a febbraio 2024 come immagino avete visto nessun'auto Apple è in circolazione ad oggi non solo in Italia ma in tutto il mondo il progetto è praticamente moribondo e l'ultimo chiodo alla bara lo mette Tim Cook proprio a febbraio di quest'anno mando un'email ai lavoratori che hanno lavorato al progetto dell'Apple Car definendo che il progetto verrà smantellato e chiuso e alcuni lavoratori licenziati altri invece spostati su altri progetti come ad esempio quello dell'intelligenza artificiale perché è interessante questa storia? non solo perché testimonia come quanto è importante avere una certa leadership e le idee chiare sullo sviluppo di un progetto cosa che probabilmente è stato il tallone da kill su Apple per quanto riguarda la costruzione e la creazione di un Apple Car e quindi questo è sembrato un'interessante storia da raccontare che magari potrebbe anche ispirarvi ma non solo mi è da anche il là per analizzare un po' la situazione di Apple in questo momento in quanto ha diverse criticità ad esempio quella della Cina la Cina risulta il secondo mercato più importante per Apple dopo gli Stati Uniti e sappiamo tutta la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina alcuni prodotti non tirano più come un tempo oppure sono semplicemente saturi pensiamo ad esempio all'iPhone è sicuramente uno dei prodotti ancora più venduti ad oggi non ha più quei tassi di crescita come ad esempio tra la fine e l'inizio degli anni del 2010 e quindi Apple in questo momento ha un estremo bisogno di riammodernare il suo parco prodotti trovando un nuovo prodotto vincente come l'è stato ad esempio lo smartphone o lo smartwatch in tempi passati in modo tale da aumentare e riprendere questa crescita delle vende come un tempo è vero, ultimamente da Apple è stato lanciato Vision Pro che è l'hardware orientato verso la realtà aumentata ma sarà realmente la nuova grande tecnologia del futuro? beh, ancora presto per dirlo è ovvio che come tecnologia non è così rivoluzionaria o nuova diversa azienda come tra cui Meta o Microsoft hanno lanciato i loro strumenti di realtà aumentata e comunque si portano dietro ancora i loro limiti di indossabilità di comodità eccetera eccetera anche se l'idea di base sembra estremamente interessante in tutto ciò però Apple in questo momento è rimasta indietro rispetto a un grande tema che negli ultimi due anni è stato quello predominante e cioè l'intelligenza artificiale rispetto a Microsoft Meta o anche NVIDIA anche se il paragone con NVIDIA è un po' particolare beh, sicuramente comunque Apple è rimasta indietro per quanto riguarda il tema dell'intelligenza artificiale questo sviluppo molto importante che è probabilmente la next big thing cioè è la vera nuova tecnologia del futuro che potrebbe dare un grande apporto all'economia alla produttività di lavoratori e aziende e quindi ci sono tutte queste criticità che vi ho raccontato anche raccontandovi un progetto fallito da parte di Apple e quindi è un'azienda che è un po' messa sotto pressione da questi punti di vista è sicuramente un'azienda molto importante e tecnologicamente all'avanguardia però ha bisogno dire a modernarsi anche Tim Cook è un po' arrivato alla fine del ciclo di management e quindi c'è anche questo aspetto di trovare il nuovo Tim Cook per poter portare avanti l'azienda visto che comunque ha una certa età diverse criticità spero che questa storia vi abbia interessato a me tantissimo vi lascio con un'ultima comunicazione cioè questo sabato sto facendo un webinar gratuito dove parliamo di pensioni il titolo è pensioni passato presente e futuro dove appunto parliamo di quello che è stato il sistema previdenziale italiano in passato quello che è oggi e quello che probabilmente sarà in futuro è gratuito link in descrizione se venite vi fate veramente piacere e se volete anche un'analisi previdenziale ad hoc cucita sulle vostre esigenze potete anche acquistare quel servizio che è parallelo quindi potete o solo partecipare al webinar oppure fare tutte e due le cose insomma vedete un po' voi link in descrizione io vi ringrazio per l'attenzione vi mando un grande abbraccio e alla prossima la via Grazie a tutti.